Si può scrivere al forum, si è del mente! Si è che scrive al forum! 9 si dà, si dà 9 cazzo! Per l'impegno! Quello per l'impegno eh! Poi il tempo che si insegna mi fa leggere la classifica del capitano di me Almeno 20! Non sono passato eh! Oggi potevi fare neanche un segno, oggi è stata la prima partita, veramente ci ho fatto bene Praticamente hai fatto fare al match due gol che ci è tipo... Eh ragazzi mi spagosta dai! Bravo Giannuzzo! Grande Giannuzzo!